Con il direttore del Museo dell'Aeronautica di Vigna di Valle possiamo citare un famoso libro, i miei primi 40 anni? Sicuramente sì, oggi compiamo 40 anni anche se non si vedono perché è una struttura molto in linea con quelli che sono gli standard museali attuali, in realtà dentro ci sono più di 100 anni di storia del volo, addirittura se vogliamo risalire al primo oggetto volante in assoluto, stiamo parlando del pallone di Carnerenne fatto volare i primi dell'Ottocento da Parigi addirittura e cadde qui nel lago di Bracciano qualche ora dopo la cerimonia che fu fatta appunto a Parigi e donata poi da Papa Paolo VI all'allora Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica proprio in prospettiva di inaugurare il museo che avvenne appunto nel maggio del 77. Il futuro prossimo del museo è anche il futuro meno prossimo? Il prossimo futuro è quello di dare un servizio sicuramente sempre maggiore ai nostri visitatori cercando di allargare le aree espositive, inaugureremo speriamo l'anno prossimo un quinto padiglione di circa 3.000 metri quadrati, una tenso struttura che quindi ci consentirà in qualche modo di ospitare nuovi aerei che stanno arrivando da operazioni di restauro e diciamo così di allargare quelle che sono adesso le aree espositive cercando di distribuire meglio velivoli che altrimenti sarebbero troppo soffocati all'interno dell'hangar. Tra l'altro il museo è collocato in una location di detto rilievo? Questo non sta a me dirlo ma lo dicono gli stessi visitatori quando vengono qui ad ammirare non solo il museo ma anche le bellezze che ci offre la natura, il lago di Bracciano, i comuni limitrofi di Anguillara e Trevignano. E' una location che sembra fatta apposta per il museo ed è qui che vogliamo il museo che continui a rappresentare quello che è la storia dell'auronatica per i prossimi 40 anni e per i prossimi 400 anni. Per chi volesse visitare il museo qualche informazione? La informazione? Intanto il museo è gratuito, siamo aperti tutti i giorni dell'anno, tutti i festivi compresi tranne i lunedì per riposo feriali, per riposo delle maestranze ma comunque anche per consentire una pulizia più approfondita. Possono raggiungere il museo facilmente dalla stazione di Bracciano che è servita dalle ferrovie dello Stato. Diciamo che c'è un servizio taxi abbastanza efficiente, sempre presente per chi vuole venire senza mezzi, altrimenti con i mezzi propri, privati può entrare e parcheggiare qui all'interno del museo senza problemi. Siamo a due passi da Roma quindi il turista che viene a visitare Roma può sicuramente dedicare una giornata e ne vale la pena anche al museo dell'aeronautica. Grazie mille, buon lavoro e ai prossimi 40 anni. Ai prossimi 40 anni, grazie tante.